Con profonda riconoscenza e viva gratitudine per l'attività svolta al servizio della collettività durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Questa è la motivazione con cui stamattina il questore di Caltanissetta Manolo Ricifari e il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagerone hanno consegnato degli attestati di ringraziamento a 24 volontari del gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Calogero Zucchetto di Caltanissetta che dal 15 marzo 2021 fino al 4 marzo scorso hanno supportato con le loro attività le istituzioni sul territorio nisseno durante i servizi di accoglienza, orientamento e stradamento degli utenti e lab vaccinale del CEFAS dove si sono recati migliaia di nisseni per ricevere le dosi vaccinali. I volontari del gruppo sono poliziotti in servizio e in pensione ma anche simpatizzanti che provengono dal mondo delle forze dell'ordine e dell'associazionismo.